Tanta paura ieri pomeriggio in centro storico, dove sembrerebbe che una frigitrice avrebbe preso fuoco dentro la kebaberia che si trova all'ancolo di via Palermo. Il proprietario del locale, un ragazzo afgano, si era allontanato per mezz'ora lasciando la frigitrice accesa, ignaro che da lì a poco sarebbe accaduto quello che è successo. I vigi del fuoco, tempestivamente chiamati non appena il fumo ha iniziato a diffondersi all'esterno nella via, sono arrivati con due mezzi e in poco tempo hanno domato il pericolo. Il locale ha portato piccoli danni e per fortuna non ci sono stati feriti.